Cala il sipario sulla perdonanza numero 730, il giubileo più antico della storia che anticipa di fatto il grande giubileo romano. Con la chiusura della Porta Santa e il corteo di rientro si è conclusa la parte religiosa della manifestazione più cara agli Aquilani. È stata la prima volta di Monsignor Antonio D'Angelo come arcivescovo dell'Aquila. Lui ha chiuso la porta che era stata aperta dal predecessore, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, anche come segno di saluto alla comunità che ha servito con amore per diversi anni. Un fatto però che ha fatto un po' discutere e suscitato sorpresa è che la bolla del perdono che nel giorno precedente era stata esposta a Colle Maggio è tornata molto prima nel cavo della Banca d'Italia lasciando spazio a una copia del documento con cui Celestino V nel 1294 istitui il giubileo che anticipò quello del 1300 di Bonifacio VIII, un provvedimento deciso a quanto pare dalla soprintendenza che avrebbe rilevato delle condizioni non ottimali e avuto paura di danneggiamenti, questo almeno si è letto, nelle poche righe inviate dal Comune. Il caso, che qualcuno ha definito addirittura giallo e che forse si capirà meglio in seguito, è che per la prima volta non è stata esposta a Colle Maggio per tutto il tempo stabilito dalla stessa bolla. Fino al 96 si ricorda sfilava in originale. Qualcuno ha sollevato qualche perplessità, visto che era conservata in Banca d'Italia ed è stata portata via solo dopo qualche ora. Una delle ipotesi potrebbe essere che il luogo di conservazione non sarebbe ideale, sono anni che sta lì, oppure potrebbe essere necessaria una revisione del plexiglass che la protegge, tutte ipotesi ovviamente, in futuro se ne capirà di più o almeno si spera. Se la parte religiosa si è conclusa, stasera gran finale anche della parte profana con il concerto di chiusura dei Poo alle 21.30 al Teatro del Perdono di Colle Maggio, una band legata da una forte amicizia al Maestro dei Amicis che peraltro ha fatto le prove proprio in città nel 2023, prima di dar vita al loro lungo tour. Sul palco arriveranno i successi di 60 anni di carriera, un gruppo che davvero ha fatto la storia della musica italiana spaziando tra ballate romantiche e rock.